Dove essere il di un pianetico, contemporaneo con l'uomo del mio litico, e l'altra tabbia che per te, mettiti in coro, interrettuale nel caffè, in un po' di soli e orari, gruppo d'essere, cristiano regni, internazionale secondo me, risposta facile, di domini ultimi, e l'altra tabbia che per te, mettiti in coro. Per te, mettiti in coro. Per te, mettiti in coro. Buongiorno a tutti. Ancora il sacco bello Cado un uomo mio Codro avescami Codro avescami Codro avescami Codro avescami Codro avescami Namaste! Amen! No, 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 no. Grazie